ecco questo è solo per far vedere quel cane che è un pitbull ok qui c'è l'area per cani recintata bella grande vuota completamente vuota non so se si riesce a vedere ma il cane è nel parco pubblico normale sciolto completamente questo è il rispetto che danno i proprietari dei cani riguardo ai parchi pubblici che sono attrezzati con area per cani ovvero il cane libero fuori dall'area per cani